Seconda tappa di avvicinamento a Biceglie verso la quindicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, in programma come da tradizione nell'ultimo weekend di agosto. Dopo l'evento con l'autore bestseller Glenn Cooper, l'associazione presieduta da Alessandra Di Piero ha ospitato ieri sera in Largo Castello i finalisti dell'edizione 2024 del Premio Campiello, tra i più prestigiosi riconoscimenti di narrativa contemporanea in Italia. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato, il Campiello è la 62esima edizione e avere i finalisti qui a Biceglie per noi è veramente un grande motivo di orgoglio. Il quindicesimo anno di Libri nel Borgo Antico che rappresenta una crescita del festival, devo dire, incredibile. Ricordo i primi anni, solo due piazze, sedie spostate da una piazza all'altra, adesso invece un'organizzazione più strutturata e degli ospiti di tutto rilievo. La partnership di questa sera ne è una testimonianza. Attraverso la lettura di alcuni stralci a cura dell'attore Mauro Rakanati, oltre alle conversazioni con gli stessi autori, i tanti appassionati accorsi hanno potuto conoscere e approfondire meglio le cinque opere finaliste del Campiello, da Dilaga ovunque di Vani Santoni alla Casa del Mago di Emanuele Trevi, già vincitore tre anni fa, proseguendo con Alma di Federica Manzon e Il Fuoco che porto dentro di Antonio Franchini, per concludere con L'Ocus Desperatus di Michele Mari, quest'ultimo unico finalista non presente all'incontro. Qui è un romanzo che racconta la storia dei graffiti e della street art, quindi una storia potenzialmente molto lunga, perché sappiamo bene che i primi graffiti li troviamo anche nelle caverne preistoriche di 30.000 anni fa, ma che poi nelle metropoli occidentali del secondo novecento ha acquisito la forma che ci viene subito alla mente se diciamo graffiti. È stato un periodo della vita in cui ho avuto a che fare col fantasma di mio padre, diciamo, che era già morto da un po' di tempo. Piano piano è riaffiorato attraverso un'esperienza, nel senso che sono andato a abitare a casa sua e quindi in qualche maniera ho raccontato degli oggetti e questi oggetti mi hanno riportato a periodi della vita di questa persona che non conoscevo molto bene, però amavo molto. Alma è la storia di una donna che torna nella sua città, che è Trieste, per ricevere l'eredità che le ha lasciato suo padre. Un'eredità che deve ricevere da un ragazzo diventato uomo che è cresciuto con lei tutta la vita, un fratello, un amante, un antagonista e che è l'ultima persona che ha voglia di rivedere. Perché? Cosa riguarda quell'identità? Lo scoprirà prendendosi questi tre giorni della Pasqua Ortodossa per fare i conti con la sua città, con Trieste, con le sue tante anime che sono anche le sue. Il fuoco della madre, una donna insopportabile, una donna dal carattere difficilissimo, una donna del sud, una donna rabbiosa e però il racconto della sua vita e della sua morte è anche il racconto di una riconciliazione. Trovando anche uno spunto figurativo e diventando in qualche modo...